Le pari opportunità incontrano la scuola alla parità, antidoto alla violenza. Appuntamento oggi all'Istituto Comprensivo Salvatore Quasimodo di Gela, diretto da Maurizio Tedesco. L'iniziativa porta alla firma dello stesso istituto, dell'Ordine degli Avvocati e del Comitato delle Pari Opportunità. Oggi è una giornata simbolica che si descrive nella giornata mondiale contro la violenza della donna. Figure come Tina Anselmi o Franca Viola o il percorso evolutivo legislativo che ha portato alla parità formale tra uomo e donna sono percorsi importanti. Quindi vogliamo che questa consapevolezza, questa parità raggiunta dopo tante battaglie e tante lotte sia patrimonio dei ragazzi e degli studenti in modo che questa parità possa essere un antidoto serio contro la violenza e contro la piaga sociale del femminicidio. Il titolo che è stato dato all'iniziativa La Parità, antidoto alla violenza, pensa che colga a pieno lo spirito di questa iniziativa perché in realtà l'azione educativa, soprattutto a partire dalla più tenera età e quindi dai ragazzi di scuola elementare e di scuola media sia l'unica vera possibilità di promuovere la parità di genere ed è la sola la parità di genere a poterci, a poter prevenire appunto la violenza nei confronti delle donne. Tra i relatori anche Giacchino Marletta, consigliere dell'Ordine degli Avvocati, Paola Greco, componente del comitato Pari Opportunità ed il magistrato Flavia Strazzanti. La parità è presente anche se in alcune situazioni familiari purtroppo tende un po' così a svanire e diciamo è difficile allora ripristinarla, questo dovrebbe essere il compito del giudice ma più ancora diciamo la società e soprattutto i membri della famiglia dovrebbero aderire a questo modello, quello della parità, farlo proprio al di là diciamo poi della cogenza della legge, della sanzione prevista dalla legge per il rispetto di questa regola. Noi abbiamo deciso di portare a scuola due esempi positivi di donna, Tina Anselmi, l'onorevole Tina Anselmi che è da poco scomparsa per cui è anche un omaggio a questa grande donna e Franca Viola, la prima donna che si oppose al matrimonio riparatore. Dunque sono due figure di donna che assolutamente hanno segnato la storia dell'emancipazione femminile in Italia. Riteniamo che siano due esempi positivi da portare ai giovani per insegnare anche alle ragazze che saranno le donne di domani di avere consapevolezza di se stesse, della storia dalla quale provengono e quindi del percorso che hanno fatto le altre donne per raggiungere oggi ad avere questa parità e questi diritti di cui godiamo. L'emancipazione è stato il frutto di una conquista che si è realizzata nel corso dei secoli. Ultimamente, negli ultimi 50-60 anni, la società italiana si è notevolmente evoluta in questo senso e di pari passo si è anche registrata una costante, lenta ma costante evoluzione della legislazione sia nazionale che europea.